Dalla Costituzione di Pertini alla Costituzione di Verdini. È veramente inquietante il passaggio che sta vivendo la politica italiana, spiegata dagli amici di Cosentino, da quel pezzo di centrodestra che si sente parte attiva del disegno di riforma costituzionale e di costruzione del Partito della Nazione. Abbiamo atteso dal Partito Democratico, dal Nazareno, una qualche smentita delle ricostruzioni degli scenari inediti di trasformismo che dicono la verità su quello che vive oggi l'Italia. Ma dal Partito Democratico è giunto un silenzio che è veramente inquietante.